Ma la Ferrari ha davvero sbagliato tutto a livello di sospensioni? Sulla SF24 a Maranello hanno scelto di rimanere fedeli agli schemi sospensivi dell'anno precedente e questo ha scatenato un po' di dubbi in alcuni addetti ai lavori. In molti, infatti, hanno criticato la scelta di Ferrari di non utilizzare gli stessi schemi della Red Bull, ovvero il pull-road all'anteriore e il push-road a posteriore. Ma è davvero un errore quello fatto da Maranello? In questo video vogliamo fare un pochino di chiarezza sulla situazione, andando a spiegare esattamente le differenze che ci sono tra una sospensione pull-road ed una push-road e andando poi ad analizzare nel dettaglio gli schemi scelti da Ferrari e da Red Bull. Partiamo con il dire che le sospensioni giocano un ruolo fondamentale in una monoposto di Formula 1, questo perché rappresentano il punto di connessione tra il telaio ed i quattro punti di contatto con l'asfalto, ovvero le ruote. Avere una sospensione ben tarata e ben funzionante, quindi, permette di sfruttare al massimo il grip degli pneumatici e questo viene tradotto in una prestazione superiore della vettura. Gli schemi sospensivi utilizzati in Formula 1 sono due. Entrambi si compongono degli stessi elementi, ovvero un triangolo superiore, uno inferiore ed il tirante dello sterzo, ma vanno a distinguersi per l'elemento diagonale che collega la ruota al telaio. Proprio quest'ultimo elemento è quello che dà il nome alla sospensione, che può essere push-road o pull-road, a seconda che si tratti di un puntone o di un tirante. L'origine dei nomi non è casuale, ma deriva dai verbi inglesi push-spingere e pull-tirare, perché questi descrivono esattamente il comportamento della sospensione quando la ruota incontra una deformazione nell'asfalto. In una sospensione push-road, un movimento verso l'alto della ruota causa una deformazione del puntone che va a spingere il rocker, e da qui proprio deriva il nome push. In una sospensione pull, invece, accade esattamente il contrario. Quando la ruota viene spinta verso l'alto, l'elemento diagonale viene tirato e di conseguenza tira il rocker, e da qui il nome pull. Ma quali sono i pro e i contro di queste soluzioni, e perché un team dovrebbe privilegiare la scelta di uno schema rispetto ad un altro? Partiamo dal push-road, che come grande vantaggio è sicuramente quello di essere più facile da settare, e quindi consente ai team di raggiungere l'ottimo della prestazione in maniera più facile. Di contro, però, l'inclinazione del puntone fa sì che le molle e gli ammortizzatori siano collocati più in alto, e questo va a danneggiare leggermente la posizione del baricentro della vettura. Inoltre, un elemento che lavora a compressione ha dei requisiti di dimensionamento più stringenti, e questo fa sì che sia più grosso e quindi con un conseguente aggravio di peso. La situazione diametralmente opposta, invece, ce l'abbiamo per il pull-road. In questo schema, infatti, le molle e gli ammortizzatori sono collocati in basso, e quindi danno un vantaggio a livello di baricentro. Inoltre, il tirante lavora a trazione, e per questo motivo può essere fatto più piccolo con un conseguente risparmio di peso. Inoltre, questa soluzione sembra poter portare anche a dei vantaggi aerodinamici, in quanto il tirante è quasi collocato orizzontalmente, e quindi rappresenta un minore ostacolo per i flussi d'aria diretti verso l'imbocco dei venturi. Di contro, però, questa sospensione è molto più difficile da far funzionare, ed inoltre la posizione così bassa di molle ed ammortizzatori rende molto scomodo il lavoro dei meccanici, che per intervenire e fare modifiche avranno quindi un lavoro maggiore da fare. Ora che abbiamo analizzato le differenze tra i due schemi, ed abbiamo capito i rispettivi pro e contro, andiamo a vedere le scelte che sono state fatte dalle squadre in questo 2024, e a darci anche una spiegazione sul perché l'abbiamo fatto. Vogliamo soprattutto mettere l'attenzione su Ferrari e Red Bull, perché i due team migliori della griglia hanno scelte a livello sospensivo totalmente opposte. La RB20 infatti ha un pull rod all'anteriore e un push rod al posteriore, mentre sulla Ferrari è totalmente l'opposto, quindi push rod all'anteriore e pull rod al posteriore. Quello che ha fatto soprattutto discutere ed incuriosire è la scelta al posteriore, perché Ferrari è rimasta insieme ad As, sua cliente, e Williams l'unica ad utilizzare uno schema pull al posteriore, mentre tutte le altre squale hanno deciso di passare al push rod. Questa scelta fatta dai team non è assolutamente casuale con l'attuale generazione di vetture. Come abbiamo detto prima, infatti, il push rod consente di mettere le molle e gli ammortizzatori in alto e quindi questo permette di collocarli sopra al cambio. Al posteriore questo in realtà è un vantaggio perché libera più spazio per far lavorare il fondo ed il diffusore e quindi guadagnare anche un qualcosa dal punto di vista aerodinamico. Ma se il push al posteriore dà tutti questi vantaggi, perché Ferrari non l'ha utilizzato? In realtà a Maranello hanno valutato il passaggio ad uno schema push, ma in Galleria del Vento non hanno visto quei grandi vantaggi che si aspettavano. Anzi, la nuova pull rod invece ha dato risposte migliori ed è per questo che Cardile e tutti i suoi comparti di ingegneri hanno deciso di mantenere questo schema. La verità è che il lavoro fatto da Ferrari sulla sospensione posteriore è davvero molto interessante perché si tratta di un qualcosa di molto innovativo. I cinematismi infatti sono stati spostati all'interno della scatola del cambio ed ora il tirante non lavora più inclinato in avanti, ma ha una posizione tutta nuova. Grazie a queste modifiche Ferrari si è creata al posteriore un canale d'aria molto importante, utile per alimentare l'hubbing wing e il diffusore con i flussi arrivanti dai sidepods e dal sottosquadro. Come vedete dunque c'è sempre un motivo dietro alle scelte fatte e non si tratta solo di copiare gli altri team. Come abbiamo spiegato dunque, non esiste uno schema sospensivo migliore dell'altro a prescindere, ma dipende sempre dalle caratteristiche della macchina. In una Formula 1 infatti è fondamentale che tutti gli elementi lavorino in sinergia ed è quindi necessario anche scendere a compromessi per far sì che un qualcosa funzioni insieme a qualcos'altro. L'unica soluzione su cui ormai abbiamo visto tutti i team convergere è la scelta degli schemi anti-dive e anti-squat. Questo perché ormai nell'attuale generazione di monoposto è fondamentale avere una piattaforma il più stabile possibile e quindi limitare tutti quei trasferimenti di carico longitudinale che si creano in frenata e in accelerazione. Per concludere quindi tra Ferrari e Red Bull non c'è una scelta giusta ed una sbagliata. Sappiamo naturalmente che la RB20 ha trovato il suo ideale con questa tipologia di sospensioni, ma non è detto che Ferrari copiandola avrebbe fatto altrettanto bene. In Formula 1 infatti molto spesso è importante mantenere una propria identità, cercare di sviluppare le proprie idee e portarle avanti per cercare di estrarre il maggior potenziale possibile dalla monoposto. Le scelte fatte dalla rossa stanno pagando, perché con queste nuove sospensioni il degrado gomma è assolutamente sparito e i passi avanti fatti rispetto all'anno scorso sono lampanti. Poi è vero, per raggiungere la Red Bull manca ancora qualcosina, ma sappiamo che gli aggiornamenti che ha in cantiere Ferrari saranno ancora un pochino più aggressivi, ma tra questi non c'è l'idea di cambiare la tipologia di sospensione posteriore. La stagione è ancora molto lunga e vedremo se a Maranello sapranno colmare il gap con la Red Bull, ma nel frattempo fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste soluzioni della Ferrari e soprattutto seguitici sui nostri canali per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie dal mondo della Formula 1.